A Teramo, dopo ormai una settimana dall'uscita dell'assessore lavori pubblici, la maggioranza è ancora inesistente. Si continua a litigare su tutto, su poltrone, su potere e su soldi. Ultimo, la questione del mutuo richiesto dal gruppo di Futuro In per le manutenzioni, duramente contestato dal consigliere Di Sabatino, che oggi, durante la seduta in commissione, ha alzato la voce contro il sindaco e gli esponenti Gattiani per poi abbandonare la seduta. Interviene così il Movimento 5 Stelle. Il sindaco è completamente senza maggioranza, in quanto Fratelli d'Italia è uscito, il gruppo di Angelo Puglia e Campana è uscito, il gruppo di Sabatino Martina è uscito, al sindaco rimangono solo le dimissioni per dare dignità a una città capoluogo che è da oltre da mesi senza una maggioranza e senza un'amministrazione che governi decentemente questo territorio. L'ex assessore di Giovan Giacomo, invece, è palesemente deluso dalla mancata azione ad una settimana dalla sua uscita dalla mancata risposta alla cittadinanza da parte del sindaco. Aspettiamo, la città aspetta più che altro, più che noi, perché noi abbiamo fatto una scelta ben precisa per rimettere in gabbo alcune situazioni del buon amministrare. Per farci ciò bisogna avere una maggioranza coesa, soprattutto in questo momento storico, dove bisogna fare delle scelte importanti. Dunque, questo era l'input che noi abbiamo lanciato con questa azione, che è solo un'azione politica, perché poi è stata, fra virgolette, strumentalizzata sulle mie dimissioni, ma le mie dimissioni non sono state solo fatte da Giorgio Giovan Giacomo, ma è stata fatta dall'intero gruppo e condivisa dall'intero gruppo. Dunque, una scelta politica ben precisa, è finalizzata solo ad ottenere alcuni risultati, ma nel solo e esclusivo interesse della collettività terramana. Anche il Partito Democratico, così come gli altri, ha chiesto le dimissioni, però le dimissioni comporterebbero comunque il commissariamento di oltre un anno della città e non è positivo per Teramo e per i cittadini. Quindi, cosa altro si potrebbe sperare? Sicuramente, in via generale, un commissariamento non è mai un aspetto positivo, ma la domanda che io pongo, quello che questa amministrazione sta facendo, ha fatto in questi anni e che sta continuando a fare, questa incertezza, questa indeterminatezza, questa situazione di bilancio drammatica e di predissesto, non è di fatto uno stallo per i cittadini e per la città? Noi siamo in una situazione di commissariamento di fatto già.